Il giornalista Tancredi Palmeri ha recentemente espresso il suo parere sulla corsa allo scudetto di questa stagione. In una conversazione con il sito Sport Italia, Palmeri ha evidenziato i suoi favoriti per il titolo e ha spiegato perché ritiene che sarà una gara molto combattuta fino alla fine. Ha posto la Juventus come principale contendente, ma ha anche fatto alcune osservazioni importanti sull'Inter e su cosa possiamo aspettarci da questa battaglia nei prossimi mesi. Per scoprire tutti i dettagli di questa analisi continuate a guardare fino alla fine, ma prima di tutto lasciate un like al video e iscrivetevi al canale per ricevere tutti gli aggiornamenti dall'Inter. Palmeri ha indicato la Juventus come la sua favorita per sollevare il trofeo della Serie A. Ha riconosciuto che la Juve, come l'Inter, ha una rosa molto ben strutturata, con due opzioni di qualità praticamente per ogni posizione in campo. Pur ammettendo che la squadra di Torino potrebbe non avere alcuni dei punti più alti dell'Inter in termini di talento individuale, Palmeri ritiene che la fame di vittoria della Juventus, unita alla disciplina tattica che ci ha giù Motta Porta come allenatore, possa fare la differenza alla fase finale della competizione. Palmeri ci tiene però a far capire che il livello tra Inter e Juventus è molto simile e che la disputa si preannuncia intensa fino all'ultima partita. Secondo lui, l'equilibrio tra le due squadre indica che avremo una lotta vincente per lo scudetto, dove ogni dettaglio, ogni punto vinto o perso, potrà definire chi sarà il campione. Il giornalista, inoltre, ha sottolineato che anche il Napoli è in lotta, anche se ritiene la squadra partenopea un po' indietro in termini di qualità difensiva. Per Palmeri il Napoli ha il potenziale per competere con Inter e Juventus, ma potrebbe non riuscire a mantenere lo stesso ritmo a causa di alcuni punti deboli della rosa. Ciò che Palmeri evidenzia come differenza per l'Inter è la profondità della sua rosa. Sottolinea che la squadra nerazzurra, guidata da Simone Inzaghi, ha giocatori di grande qualità che possono fare la differenza sia nelle partite di serie che nelle competizioni europee. Questa varietà di opzioni, secondo Palmeri, dà all'Inter un grande vantaggio rispetto alle altre avversarie, permettendo all'allenatore di ruotare la rosa e mantenere la squadra sempre fresca e pronta per ogni sfida. Palmeri si è soffermato anche sull'impatto che le competizioni europee potrebbero avere sulla corsa al titolo. Ritiene che il fatto che l'Inter sia impegnata in Champions League possa rappresentare un ostacolo in più nella corsa allo scudetto. D'altronde per lui la Juventus, che non ha gli stessi impegni continentali, potrà beneficiare di un calendario più leggero, concentrando tutti gli sforzi sul campionato italiano. Palmeri ha infine tenuto a ricordare che, nonostante la disputa tra Inter, Juventus e Napoli sia serrata, vede un piccolo vantaggio per la Juventus, soprattutto se consideriamo il fattore motivazionale. Per lui, la fame di vincere dei giocatori juventini, unita all'organizzazione tattica di Cia Giumotta, potrebbe essere decisiva nella corsa al titolo. Ciò nonostante non esclude sorprese e crede che sarà una stagione ricca di colpi di scena. Ora, interista, vogliamo sapere la tua opinione. Cosa ne pensate delle parole di Tancredi Palmeri? È d'accordo con lui sulla disputa scudetto? Credi che l'Inter abbia le carte in regola per vincere lo scudetto in questa stagione? Lascia il tuo commento qui sotto. Forza Inter sempre!